Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gallows Game, siamo qua con l'episodio 35 della nostra partita in Total War Warhammer con i Pelle Verde Pelle Verde che siamo in guerra con i Conti Vampiro, abbiamo devastato la loro città nell'ultimo episodio Adesso vorrei debellare velocemente questa loro corruzione vampirica, eccola qua, dovrebbe essere in discesa abbastanza netta In realtà in questa zona non tanto, però comunque in discesa E mentre quella del caos è ancora un po' diffusa in molti territori, qua in realtà non tanto, nonostante ci siano le città distrutte non è poi così diffusa per fortuna Mentre c'è il problema a sud delle invasioni di questi qua, li stiamo per catturare perché gli manca praticamente un unico esercito Hanno due agenti dietro, quindi appena possibile li andrei a fermare, probabilmente distruggeranno questa città Ma abbiamo gli eserciti pronti ad andare a prenderli, quindi iniziare appunto a rifondare le città come abbiamo detto Allora mi avete suggerito un po' di nomi per gli agenti, quelli per i generali ragazzi Non posso fare milioni di generali, quindi purtroppo non possiamo farli Però possiamo iniziare a fare quello degli agenti Allora, uno che utilizza un lupo deve essere proprio un goblin Quindi qua abbiamo due orchi Quindi direi che non sono loro Questa qui è una bug Questo qui è Cryspakamontagne, quindi non c'entra un tubo Tu? Ma questo qua è un'altra bug, fantastico Allora, vediamo un attimo Qua ce ne dovrebbe essere uno di gente Da questa parte Non mi sembra che questo fosse un nome che mi avete suggerito voi No, non è vero, questo qua me l'ha suggerito Questo qua me l'ha suggerito Non mi ricordo più, l'ore, me ne aveva detto uno Ah, insomma, controlliamo perché Non possiamo stare qua mezz'ora a cercare tutti gli agenti Non sei tu No Era un nome strano, tipo che si voleva dire Taglia qualcosa Forse è proprio quello là Allora, rinominiamone altri in sostanza Per esempio tu Questo qua lo cambiamo Come vi avete suggerito voi Rinomina E diventa Gadda Sh E come cognome non è più il prescetto di Gork Ma lupo bianco Lupo bianco Visto che siamo orchi con la K E qua era con una sola A Perfetto Boom E appena possiamo gli diamo l'orco Così c'è il lupo Così siamo a posto E poi c'era il Giovanni mi ha detto Questo invece Questo me l'ha suggerito Godluck E invece Giovanni mi ha suggerito Gellots Polletto Gellots Polletto Va bene anche Un orco Vediamo un po' Quale 3 e 2 Questo qua Lo metteremo dentro un esercito Sarò Io personalmente a quanto pare Quindi Gellots Polletto Ecco qua Perfetto Allora mi avete detto un po' di cose Sui necromanti che quando muoiono vanno via E più che altro I due a caso anche Mi ha detto di invadere Verso ovest Quindi così faremo Adesso non so se possiamo muovere ancora qualcuno Questo qui Il furtivo viene da questa parte Tu Vieni qua Così Possiamo fare la missione Dobbiamo andare qui mi pare Per finire l'incarico Che è quello Della corona Esatto Quindi Vieni qui in sostanza E poi possiamo fare le cose Questo invece Cosa devo fare Devo saccheggiare Ora del suo La saccheggia 5 Ne abbiamo fatti 4 Bene E poi invece dobbiamo andare a combattere Queste sono le forze nemiche Attesi rinforzi Va bene Direi che ci andiamo con Gringor Una volta che abbiamo eliminato Il problema Conti Vampiro Allora Subito qua Tu Puoi essere potenziato Tizi tosti Perfetto Esci da questa modalità Entri in quella normale E ti puoi posizionare Qua No secondo me Così non va bene Ti farei andare avanti Di un pochettino Ma non tanto Tipo qui Mi dice che subisce danno Però non capisco il perché Forse perché qua c'è corruzione Allora ti muovi di poco E poi ritorni così Stessa storia A te Gringor Ti puoi muovere Ma è che c'è bisogno più che altro Di farvi Ritornare In Le unità Con tanta vita Adesso A questo qua Potremmo dirgli No in realtà Tu segui semplicemente lui A questo punto Se entri in questa modalità Non dovresti subire danni Perlomeno E basta E le altre unità Le abbiamo mosse Praticamente tutte Quindi direi che possiamo Cambiare il turno Ragazzi Non c'è possibilità Né di allearsi Né di fare nulla Con questi tizi L'unica cosa appunto Che È che Entriamo di certo In guerra con lui Mi avete detto Di non dichiarare guerra Direttamente a uno Ma di chiedere A parte che con lui Non si può fare nulla Impossibile negoziare Ma Di Praticamente Dichiarare guerra A qualcuno Chiedendo agli altri Di aiutarci Adesso questi qui Con un orca Possiamo farlo Però prima Dobbiamo far pace Vedete Quindi non sono d'accordo Tu Sei in guerra con qualcuno No In sostanza Siamo tutti in guerra Solo con il caos E non c'è possibilità Di chiedere A nessun altro Di Cioè a quelli del caos Di Entrare in guerra Al loro fianco Perché Con lui non possiamo Proprio parlare E con questi qua Prima dovremmo fare pace Dove cacchio sono in orca Questi qua Cioè questi qua Che sono in No con questi qua Proprio non posso fare nulla Con loro Sì a quanto pare Sì certo Cani più docchiosi Pace non la vuole fare Quindi non possiamo fare un tubo Quindi purtroppo Non funzionerà quel piano Dovremmo dichiarare guerra Noi ragazzi Passiamo il turno Vediamo un attimo Cosa succede La vaga si è avvicinata La vaga si è avvicinata La vaga si è spostata Tocca l'impero Qua facciamo limitato Così non vediamo tutto E vanno più veloci le cose Gli agenti mi seguono Quello un esercito Questo qua un altro agente Una benshi Questi qua stanno venendo Verso il basso Sono davvero tanti Attenzione Nel prossimo turno Finiamo La missione per Cioè non è Quella finale Ma la prima Per avere la corona Di Atzak Ah guardate Cosa hanno fatto No 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 Di lì non mi gioca niente Cosa hanno fatto qui Sono tornati in su Mi hanno attaccato La vaga E hanno perso Allora Cara vaga Vai Cioè la vaga Non ha subito danni E' pazzesca sta cosa Facciamo fare un po' Di esperienze I miei amici Vediamo se non muori Grande E anche tu No scusa Scusa tu se la vaga Sbagliato 78% No Te sei un pochino Scarso E non sono io Giusto Tra l'altro Tu dovresti essere Quello con le abilità Sulla mappa Della campagna Migliore Quindi Falle basta Fallimento Che idiota Però comunque è salito Di Di livello Allora Tu hai Assalto l'unità Però a quanto pare Non hai la capacità Di farlo Allora Ti metterei Questo qui Perché tu sei un agente Da campagna Tu invece sei un agente Da qui Quindi Potere della vaga Costante intorno a sé Aumenta la velocità Di ricarica Dalla Potenza magica Scoppia cervelli Farei questo Il pugno Il pugno Ti tiro un pugno Allora Vediamo qua Quello può arrivare A un po' attaccare Allora Inseguiamolo E basta In realtà Si muoverà prima la vaga Penso lo faccia fuori Comunque Ci muoviamo E basta Perché tanto La direzione È circa Sempre quella A questo punto Con questo qua Non veniamo giù Perché lui potrebbe Comunque attaccare lì E farcela fuori Adesso Tu Hai comunque Il livello alto Di bug Però dobbiamo Assolutamente Rifondare quello Doviamo La modalità normale Colonizza Perfetto E Direi basta Allora Una cosa che possiamo Fare è Prendere Questi tre No Lasciamo così Recupera questi Non fare nulla E ricostruiamo Quale cose Qua non possiamo Farlo perché Manca la struttura Principale A quanto pare Va bene Allora Con questo Possiamo ritornare Di qua Hanno rifondato Le città Bene Ottimo Rifondale tutte Così Poi te le rubo Ancora Qua come va La faccenda Stiamo costruendo Stiamo costruendo Quindi va bene Così Diamo uno sguardo Più vicino Qui così Nonostante Siano In accampamento Ah no Questa è la bug Certo Questi qua Stanno andando Un po' Manuccio Però vorrei andare Ad assediare Quella città Lì Allora È che tu Bisogna di recuperare La salute In realtà Caro gringor Cioè se ti metto In modalità normale E ti muovo Fino a metà Cosa succede Questo dovrebbe Essere metà Perfetto Invece possiamo Muovere lui Un pochettino Normale Ci si mette Un sacco di tempo Ma Mi sa che È proprio necessario È che Il fatto che Non mi indichi La metà È un po' Una rottura di valle Perché Io non so Quanto è il 50 Cioè in realtà Sì Possiamo andare avanti Ancora un pochettino Perché si vede qua Però 57 Va bene Entri in quella modalità E basta Qua tra l'altro Raziamo un bel po' Quindi Va bene Tu invece Sei già Al Non puoi arrivare Di là in sostanza Quindi fai così E basta Perfetto Qua l'ordine pubblico È in salita Ottimo Più di così Non possiamo far nulla La crescita Qua è un po' Lenta Appena possibile L'ammontiamo Però qua faccio alle mura Perché Qua non possiamo conquistare nulla Quindi è proprio L'accesso al nostro impero Mentre qua possiamo andare avanti E conquistare fino A qui E qua direi E fare qua Le nostre mura Definitive Qua invece Non dovrebbero esserci Problemi Perfetto Ok dai Muoviamo come Di consiglio Tutti gli agenti Quindi L'ho già fatto Tu sei qui Vediamo se puoi fare qualcosa Contro questo Fallimento Grande Ok Se sei venuto un po' più forte Tu dovresti entrare dentro un esercito Perché Però quasi quasi Ti metterei questo Va Visto la zona in cui siamo Potrebbe essere utile Poi tu Tu vai qua Boom Quindi abbiamo finito La missione E gli altri Non si possono più muovere Ok Vediamo un attimo Cosa succede a sud E andiamo avanti Vai Penso che la vaga L'abbia fatto fuori Fantastico Quindi abbiamo solo Uno da rifondare Qua ci sta attaccando Questi qua Vanno verso nord Va bene Gli altri non li vediamo Vediamo il caos Probabilmente Limitato Ci fa vedere solo Quelli con cui siamo in guerra Probabilmente Mostra solo I spostamenti Ok L'abbiamo distrutti Completamente Grandissima La nostra vaga Qua abbiamo Fallimento critico Di chi scusa Ah grande Pronte al dovere Goblin grande capo Fantastico Quindi questa l'abbiamo finita E ora cosa dobbiamo fare Ottieni un numero pari A quattro unità di fanterie Da tiro Nell'esercito del lord Uno Due Tre Quattro Mi sembra che l'abbiamo già fatto Perfetto L'ondata Ma ora Ora un'ulteriore ondata Arriverà Cacchio Ma ancora a sud Cioè Quale abbiamo fatto fuori In sostanza No Fatemi capire che cavolo Indica Con quello che ho appena detto Cioè probabilmente Allora Probabilmente il fatto Che abbiamo eliminato Una della fazione Di Norska Dove che sono Sì a quanto pare Li abbiamo eliminati Quindi il problema A sud È completamente risolto Allora Pegliamo l'esercito Di Cry Vieni qui Anzi Muoviti anche Più velocemente Ok Dunque tu Qui non serve un tubo Però fra un po' Inizierei a essere Insubordinato Pazienza A sto punto Ti risposto a nord A te Perché almeno Ne abbiamo uno Qua a nord Fai così E basta Mi dispiace Ti ho fatto fare strada Per nulla Ma il pericolo era grande L'abbiamo risolto Senza Esercito in più Quindi è andata bene Tra l'altro In realtà Questo esercito qua Avrebbe bisogno Di No Cambio Cambio Di programma Un'altra volta Vieni qui Anche Cry Tornerai qui E qua facciamo Un rimelo scalamento Di tutti gli eserciti Anche questi agenti Inizieranno A andare a nord Questo qua Cosa fa Costi di costruzione Allora Vai a nord E vai a nord Pure te Non mi servite più A un tubo Qui fai questo Che serve Di sicuro a tutto Abbiamo sventato Cioè questa città Non è stata distrutta Fantastico Da che mandiamo via Anche quella corruzione Del caos da lì Perfetto Allora Quello che vorrei fare È iniziare a divertirmi Un po' Questo qua 50% Vai Vediamo se siamo fortunati Grande Grandissimo Grandissimo Ah Praticamente avendo fatto qualcosa Mi ha detto che Ha funzionato pure questo Posta Un personaggio Qualsiasi In questa regione Siamo già qui Fatto Cioè le stiamo facendo Le stiamo facendo tutte Una di filo all'altra Fantastico Ok Ora cosa devo fare Corone di spine Devo fare un altro combattimento Ok Che è qui così Questo qua è contro il caos Al 99% Vediamo un po' Sì contro il caos Rinforzi attesi Va bene Allora abbiamo fatto Praticamente Gli incarichi In volata Manca questo Che è un incarico Generale Comunque da qua Penso che ci possiamo Spostare Qua non ho capito Se stanno Tornando giù Quanti cacchi D'eserciti hanno Ma soprattutto Quando diceva Che Loro si stavano Ritirando Cosa intendeva La mia orda O in generale Questi Loro sembra Che siano qui In questo momento Va bene Speriamo che No guardate che sono qua Uno due tre Stanno scendendo Di brutto Stanno scendendo Di brutto Si sa che dovremmo Affrontarli Con loro due Ok Ho mosso tutti No non è vero Allora ma anche tu Non anche tu Non anche tu Non anche tu Vieni qua E lavorami Per abbassare La Abbassa questa Più velocemente Poi Chi c'è ancora Te Che cacchio ci fai Qui tu Vabbè Ti sposti Vai anche te In mare Perfetto E sali su di qua Ottimo Tu hai bisogno di Un bel potenziamento Facciamolo Allora L'assassino è andata bene Questo sarebbe utile Te ti voglio utilizzare Però per altre cose Questo qua Sarebbe per bloccare Gli eserciti Fai questo Questo qua È un agente Molto Molto importante Per il nostro impero Direi che siamo a posto Possiamo fare un altro Cambio turno Dovremmo essere in grado Di Invadere Vabbè qua Fammi questo Questo punto Uno dei due Faccio qualcosa Probabilmente il prossimo turno Siamo in grado Di arrivare lì Non lo so Comunque dobbiamo rifondare quella Ovviamente qua facciamo le mura Adesso E ci preoccupiamo Di andare più avanti In modo che Se dovessero tornare Li vediamo Però sono un po' preoccupato Da qua Perché Da quello che vedo Ci sono davvero Una quantità assurda Di eserciti Uno Due Tre Tre Non questo E poi ne ho viste Altre due di là Quindi Non so se Probabilmente qua Ci dovremmo teletrasportare Non potremmo fare le cose Normalmente È un po' di turni Non costruisco E non guardo Se ho cose da costruire Quindi fatemi fare Questo giro Che è importante Allora Qui non possiamo far nulla Poi Picogrom Picogrom Mi fai Subito Questa Più importante Di quella Assolutamente E qua mi fai questo Perfetto Pompi anche questa qui Va benissimo Dunque Lasciamola Di quel livello Che va bene Per occultare Fino gli orchi Oddio Questi che fanno Un po' schifo Però Va bene Pomperei questa No Questa non serve Un tubo Possiamo mettere Questo Che va bene E qua Potremmo fare Quella degli sciamani Che abbassa un po' Quella Però non abbiamo Problemi di ordine pubblico Quindi in realtà Non servirebbe a nulla Qui invece Qui siamo in sostanza A posto Quindi non possiamo Fare niente Qui stessa cosa Abbiamo completato tutto Qua ho costruito A gola morte Delle mura Non so se la prossima Invasione Sia più forte O meno Quindi Possiamo anche lasciare Qua sinceramente E qui va bene Così Facciamo delle mura vere Ok Perché quella Non era mura vere Basta Siamo qui in alto Non mi interessa Pompiamo questo E pompiamo questo Abbiamo finito i soldi Perfetto Cambio turno Le vaga si spostano Adesso qua Magari le vaga Scompaiono Ma È un problema successivo In sostanza Quella vaga Lì sta subendo Un sacco di danni Quindi ora Iniziamo subito Ad assediare L'altra città Fortificata loro L'altra città Principale di provincia Adesso Questi qua Cosa stanno facendo Che Ci mettono un sacco Incursione Dove Ah è la mia vaga Che fa incursione Va bene Uh abbiamo fatto Anche questo Successo Cosa dobbiamo fare ora Conquistare qui Sposta un personaggio Qualsiasi in questa regione Va bene E poi recluta Questo tipo di cavaliere Cavalleria corpo a corpo In 5 turni Cosa fa Esperienza delle nuove unità Vabbè Non penso che sia una cosa Che andremo a fare Sinceramente Va bene Questa qua L'armata di sangue Non so cosa porti Questo sinceramente Va bene Comunque L'andremo a fare con lui Che deve spostarsi qua Quindi vieni qui Questo qui è l'agente Delle missioni A quanto pare Va bene Allora Vediamo se siamo In grado di Fondare di nuovo Le città Anche quella lì Da rifondare Un'altra volta Però prima Facciamo queste qui A sud Penso che mancherà Un altro turno Esatto Quindi vabbè Fammi Che vieni qua E basta Tu continui a seguirlo Speriamo che non scompari Del tutto Va bene qua Tu potresti Quasi quasi Andare lì così Se no possiamo utilizzare Questo esercito Qua Per andare a fondare La città Ci mette comunque Un sacco di turni Però fai così E basta Qua si stanno Andando a rifondare Le città ancora Vediamo come sono Messi qua Perché sono la mia Banca in sostanza Va bene E poi 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 Allora Qui Come va la faccenda Tu spostati qua Tu Stai qui E basta In sostanza Va bene Tanto non vedo Agenti nemici Va bene Prima di interrompere L'episodio Vorrei Mandare questi qua All'attacco Purtroppo Non la facciamo Possiamo fare Automatica Mi fai Uno di questi E rimani qui così Perché lui non ha Unità da assedio In sostanza Fai così Tu si puoi già spostare In quell'altra direzione Perché le voglio far fuori Poi Arriverà anche il caos In questa direzione Almeno Non abbiamo altri nemici O comunque problemi Loro Allora Il 50% Ah Però posso vederlo da qua Quindi Non ci avevo fatto caso Lo sapete Perfetto Fai così Che è perfetta Come cosa E siamo a posto Quindi qui Va bene Non ho ancora Dichiarato guerra a nessuno Prepariamoci All'arrivo del caos Facciamo l'ultimo Cambio turno Dai Poi vediamo come va Siamo andati avanti Tanto in questo episodio Perché appunto C'era da spostare Un po' di truppe E cose particolari Non tanto attacchi Oh Questi qua sono arrivati Fin lì Bene Gringor può tornare indietro E attaccarti O se non lo fa Pazienza Vorrei però Perdere questa città Quella lì Nel prossimo turno Facciamo la battaglia Automatica Adesso Incursione Qui Gringor Pelle di ferro Ha generato una Vag Incredibile E poi dobbiamo Entrare in guerra Con i tappi Conflitto tappico Conflitto nanico Più serie di disciplina Tutte le forze Contro i nani La vorrei fare Effettivamente Però non so se Facciamo in tempo Danneggia mura Fallimento Voglio farne seri di livello Non che mi importi Allora Fondiamo qua la città Fonda Hop Ok Perfetto Adesso Mentre che ti riprendi Gigante non perdite Perché è solo uno Ovviamente Qua tu stai arrivando Va bene E invece Qua fatemi controllare La questione Allora tu In modalità normale Arrivi fino qui Modalità che passi sotto Arrivi fino qui Modalità che passi veloce Arrivi fino qui Quindi tanto vale Che ti muovo Così che non subisci danni E ti muovi qua Tu attacca lei Torna indietro Perché devo saccheggiarli I territori Sennò non vale la pena Vediamo se tu Lo riesci a bloccare Assassin 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 Non c'è blocco esercito No Tu non puoi farlo 88 78 Ah questo qua È l'ordel leggendario Loro Spettro re Benshi No mi sa che Le probabilità sono davvero Troppo basse Allora dai Interrompiamo l'episodio Con il saccheggio Di questa città Bravo Bravo Immazzacratore Perfetto Ne abbiamo persi 83 La razziamo ovviamente E adesso Ti rimando Immediatamente qua Non fare nulla Ma Resta lì in sostanza Fammi così Che non perdi unità Anche tu Non le dovresti perdere In questo frangente Tu torni indietro Ottimo Poi possiamo Mettere a posto Possiamo salire ancora Arzak Così prima o poi Possiamo dare la diverna Perfetto Selvaggio di Zibrut Spara E poi andrei a mettergli No questa qua è la missione Che abbiamo già fatto Dobbiamo semplicemente Completarla Dunque Ma secondo me Come esercito Va abbastanza bene questo Possiamo andare a fare le missioni Primo o poi Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Molto di gestione Vero Però Dopo le battaglie Dei video scorsi Era da fare Adesso Qua siamo pronti Per riprendere le invasioni Ci sono da costruire Un po' di cose Questo mettiamolo in cantiere Se no non ha senso Direi che Rinvadiamo I principati di confine Ma voglio farlo Quando ho tutto il bordo Preciso Quindi qua ci sarà un esercito Eccetera Probabilmente li mettiamo Metto a posto gli eserciti Quando sono Dall'altra parte A questo punto Adesso voglio vedere Loro se la rifondano lì Probabilmente no Vediamo un attimo Che succede Appena questi Non ci sono più In sostanza Qua cosa dice Dice Semplicemente che ci sono Due unità E voglio vedere un attimo Cosa fanno loro Ci sono spostati giù Un pochino Adesso perché erano Tipo qua Da qui sono arrivati lì Vediamo se riusciamo A intercettarli O a vedere Qualche informazione in più No Sono proprio tutti qua Secondo me Sono diventati più forti Di me in questo momento Infatti sono diventati Rank 1 Ci hanno superato Di brutto Perché Mi hanno regalato Ovviamente delle altre unità Qua sopra Visto due eserciti Da 20 ancora Quindi Sono forti Molto forti Questi qua Sono davvero devastanti I guerrieri del caos I prescelti Da quello che ho capito Ci sono i prescelti Grandi armi Che sono ancora più forti Però vabbè Dovemmo riuscire A tenergli testa Ci vediamo Nel prossimo episodio Ragazzi GG a tutti Sì